Salve a tutti ragazzi bentornati in questo video probabilmente il più rapido il più informale del mio canale che sto facendo a mano con la fotocamera facetime del mio iphone 6 che ora sto andando allegramente a coprire con il mio dito comunque video molto rapido per informarvi che domani sabato sarò al games week di milano se volete partecipare siete ancora in tempo vi lascio il link del sito ufficiale in descrizione ci sarà il bottone gigante per creare un biglietto un biglietto per un giorno solo vi costa 12 euro potrete stamparvi direttamente il biglietto dal sito web e vi permetterà domani o anche domenica di accedere al games week però domenica io non ci sarò ci sarò domani ci sarò domani arriverò dalle 3 alle 4 più o meno e me ne andrò alle 7 quindi più o meno dalle 3 e mezza in media fino alle 7 sarò al games week potrete incontrarmi potrete parlare con me insomma ci sarà un bel incontro con i fans o nel post che ho messo su facebook già molte persone mi hanno detto che ci verranno comunque non ci sarò solo io ci saranno anche moltissimi altri youtubers molto più famosi di me comunque se non avete nulla da fare o se comunque venite soprattutto domani il giorno in cui ci sarò io fatemelo sapere nei commenti così so più o meno quante persone aspettarmi detto questo un grande saluto ciao a tutti 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 ciao a tutti